E apriamo con la notizia dell'ultima ora, il cartista trentenne Marco Villa è tornato per la seconda volta in un mese sul suo kart. Che cosa? Ma come sarebbe? È assurdo, com'è possibile? Io mi rifiuto di credere a una cosa del genere! L'altra volta mi ero dimenticato di registrare il primo turno, iscrivetevi al canale sennò si dimentica di registrare. Oh si restringe sempre di più sto sedile, non capisco, vero? Cazzo continua a restringersi, andiamo? Particare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.